Ho una reazione, una grande reazione. Come sempre giochiamo contro una buona squadra, loro sono un dici in mondiale, ma come sempre ci sono tante cose che controlliamo, che non abbiamo fatto durante la partita, tante opportunità per noi, ci sono tante cose per noi, per lavorare, per essere meglio per questa partita, le cose che controlliamo e vogliamo vedere la reazione non per noi stessi, ma anche per gli altri, perché sempre la partita è difficile, ma il risultato è come sempre mia preoccupazione, non loro, non la squadra, ma vogliamo una prestazione al nostro livello. Se metteremo sul campo la nostra partita, la nostra gioca, al livello che vogliamo, sono contento e sono sicuro che se facciamo questo, abbiamo il risultato che tutti vogliono. Come ho detto, la nostra esecuzione è fondamentale, la nostra conquista, la nostra tush specialmente durante il primo tempo, non funziona al livello necessario. con Jadon e Mini durante le sei nazioni e anche l'altro giorno, loro cambiano sempre durante la partita e con le infortunate di Matteo Bellini durante il primo tempo è necessario, ma ho pensato che Jadon ha giocato molto bene nel secondo tempo e speriamo abbiamo lavorato tanti con Jadon e Mini perché vogliamo vedere l'X Factor di Mini sull'ala anche all'estremo. Lo stesso per Jake, Jake ha una piccola infortuna prima della partita settimana scorsa e lui era pronto per la partita, ma lui non ha allenato durante le settimane. Questa settimana lui è buono e è una buona profondità per noi. Abbiamo Giovanni sul panchino adesso, la sola cosa per noi è lavorare e facciamo le cose che controlliamo durante la partita, giochiamo a un livello di intensità differente, ma solo esecuzione. La differenza a questo livello è piccola, sempre piccola. Due o tre cose durante la partita, se facciamo giusto, il risultato è buono per noi.